una sera in televisione ho visto un film bello d'azione divano popcorn luce soffusa bella atmosfera ma mancava qualcosa allora un'altra sera ho pensato invece del cinema facciamo teatro e ho visto su internet uno spettacolo del grande troisi serata piena di ricordi e di sorrisi divano popcorn luce soffusa bella atmosfera ma mancava qualcosa allora ieri sera ho avuto un'idea speciale mi sono vestito e ho deciso di andarlo a trovare sì uno vero con il palco le sedie il sipario sua maestà il teatro da fuori quasi non lo riconoscevo troppo buio e desolato con un vecchio manifesto in bacheca ormai ingiallito e mezzo strappato sono entrato e mi son detto oddio ho sbagliato questo non è il teatro e invece era proprio lui nel silenzio più assoluto assordante solo quasi come un vecchio ammalato che è stato da tutti oramai abbandonato ma lui è storia e deve tornare presto a vivere aprite il sipario il teatro non può morire il teatro di leonardo tricariello